Salve a tutti ragazzi del vostro gusto, come state? Spero tutto bene. Questo è un secondo video della giornata di oggi perché è notizia di poche ore che si è spento purtroppo in maniera improvvisa Pino Wilson che è stato lo storico capitano della Lazio del primo scudetto, nonché grande idolo di mio padre che ai tempi giocava nella Lazio Primavera e ha scelto proprio il numero 4 perché giocava da libero come Pino Wilson. È un momento sicuramente triste per noi laziali perché se ne va via una grandissima figura della Lazialità, della Lazialità per bene, una persona estremamente educata, composta, veramente a modo. Io lo sentivo anche via radio, sia su Radio 6 che su Radio Incontro Limpia qualche volta interveniva ed era sempre un piacere ascoltarlo. Ma al di là di questo la cosa più importante è sempre poi l'uomo al di là dello sportivo e quindi da Laziale e anche da persona ovviamente comune va dal mio punto di vista un abbraccio simbolico perché ovviamente non lo conoscevo alla famiglia. E' un arrivederci al grande Pino Wilson che, ripeto, per noi laziali ha rappresentato tanto e rappresenterà sempre e comunque qualcosa di importante e di unico. Quindi ciao Pino e buon viaggio. Un abbraccio dal vostro bus. Scusate, era un video dovuto e ovviamente dispiace anche aver fatto prima un video un po' più ironico ma non sapevo di questa notizia. Quindi altrimenti sarebbero stati toni un po' più sicuramente, diciamo così, composti. Un abbraccio dal vostro bus e ci vediamo presto. Ciao Pino.